Vattipaia avrà la sua scuola elementare Giancarlo Siani che verrà inaugurata domani nei padiglioni dell'Istituto Comprensivo Francesco Fiorentino a poche ore dall'ultima campanella dell'anno. All'intitolazione dedicata al giornalista del mattino trucidato dai sicari della Camorra nel 1985 parteciperanno il fratello Paolo Siani, il prefetto di Salerno Salvatore Malfi, la sindaca Cecilia Francese e verranno tutti accolti dal dirigente della scuola Dario Palo. Alle 11 all'interno della palestra dell'Istituto in Via De Gasperi verrà inaugurata una mostra a cura di alunni e docenti, un felice epilogo che sopraggiunge al termine di una lunga serie di polemiche rimbalzata sulle testate nazionali per via dell'iniziale di niego al riconoscimento da parte della Commissione Toponomastica del Comune. Non ci sarà invece Saviano che ha speso molte parole anche molto dure nei confronti della nostra città che inizialmente ha bocciato questa sua proposta. Quando l'ha ideata? Pensava che sarebbe stato così difficile? Sinceramente no, perché pensavo fosse anche, visto il periodo in cui l'abbiamo proposta, quando il Comune di Battivaglia usciva da un periodo di commestriamento per presunte infiltrazioni camorristiche, ovviamente nemmeno a farlo apposta in quel momento sembrava anche un segnale forte da dare alla collettività e quindi far capire agli studenti il nesso tra l'intitolazione della scuola primaria Siani, in quel particolare contesto storico, un momento storico, e quindi sembrava un'operazione semplice e condivisa. Le vie burocratiche degli enti e delle amministrazioni purtroppo a volte sono farraginose, ma alla fine quello che è importante è aver raggiunto l'obiettivo e la scuola sarà intitolata Siani venerdì mattina. I ragazzi si stanno preparando con entusiasmo, hanno fatto diverse ricerche sulla figura storica di Siani, hanno preparato cartelloni, dei video, insomma, e spero che tutto possa essere funzionale alla riuscita della manifestazione.